Eccoli! Eccoli la Radio Radio Band! Buonasera a tutti da Francesco Bergovic dal Piper Club di Via Tagliamento, la prima volta che mi nomino, ma mi conoscono tutti credo no? Mi conoscono tutti? Sì! Io amo Pasolini, non credo, cioè io sono uno dei ragazzi che ha cresciuto Pasolini, io vengo dal Mandrione. Il Mandrione? Il Mandrione. Esiste fuori il Mandrione? Come no? Cioè sei? Stiamo facendo il documentario noi del Mandrione, è un'altra cosa questa. E così nel 1951 io l'ho conosciuto Pasolini. Quanti anni avevi tu? Sei anni. Sei anni avevi tu? Ero un ladruccolo. Un ladruccolo? Sì, perché a quell'epoca, quando era la sera dovevi portare qualche cosa a casa. E cioè... Cioè uscivi la mattina e dovevi tornare a casa con un malloppo, con un bottino? No, con un malloppo. No, un bottino insomma. Un bottino era così, al Mandrione era così. O usciti e portavi, ma noi giovani, siccome che lì sotto al Mandrione c'erano i treni, dove c'erano tutto ben dentro io, allora noi scendavamo sotto e andavamo a prendere, per esempio, quello che cadava, i vestiti, il pane, le cose. E una volta mi dissero, dice, a Tarzanelli quando c'è stanno i bagnaroli? E io facevo, e che so sti bagnaroli, no? Perché noi c'erano un vasco, se buttavamo dentro sti vasco e se facevamo il bagno. Dice, no, c'è stanno i bagnaroli, quelle che tu ti metti e ti fai il bagno, porca puttana, andiamo a fiarle, no? E io sono sceso giù, allora le faccio a Pachito e Bulbun, oh, datemi sti bagnaroli. Dice, aspetta, gira lì, e tirano questa bagnarola, non era la bagnarola, era una vasca da bagno da chisa. Io ero piccoletto, sei anni, veniva la faccio a tenere e sono rimasto sotto, sotto a sta cosa, oh, tiratemi fuori, che qui è, oh, sta arrivata la guardia. No, arrivavano le guardie perché c'erano le guardie che, cos'hanno, noi ragazzini magari non ci dicevano niente. E insomma, levano sta cosa e me tirano fuori, mentre che risalivo l'Argine, c'era Pasolini, c'era un topolino, stava insieme con una donna però. Un'automobile? Un'automobile. Topolino. Un topolino, era una giardinetta, non mi ricordo che era. Una topolino, sì. E così arrivò sopra, arrivavamo sopra e lui ci guardava storto perché lui già era quasi setto, otto mesi che ci conosceva e ci disse proprio, dice, quando voi avete bisogno chiedetelo a me. Ma noi gli abbiamo detto, ma come tu stai, te portiamo la roba per bagnare perché noi, la sora Susanna, la madre, facevamo la cosa e gli portavamo da mangiare perché non è che... Perché anche lui non stava bene con lui. No, andavo a lavorare lì a Ciampino, era le prime volte, cioè era poco che il padre l'aveva cacciato via, insomma, ecco, non è che stavano bene. Dopo lui ha cominciato a riscrivere, cosa è, insomma, come siamo arrivati sopra, lui ci disse, mi raccomando, quando vi serve qualche cosa, chiedetemelo a me. Lui prese il primo stipendio da cosa, da insegnante, e mi comprò un cappotto a me, a Bulbuli, ma gli comprò un paio di scarpe, a Parabonso, non mi ricordo se erano un cappotto, una giacca, una cosa, e un altro un paio di garzoni. Insomma, lui ha speso il primo stipendio quasi in metà per noi. Pensa tu che... Ah, guarda, comunque, su Pierpaolo Pasolini poi va bene, insomma... Adesso noi... Sì, raccontaci, no, Paolo, che noi siamo stori... No, Pasolini, mi dicono tutti, perché Pasolini racconti Pasolini e questo è quello lato. Adesso lui è il compleanno, no? Noi faremo qualche cosa, non so se facciamo... Quando? Quando succede? Il 5, il 5 marzo è il compleanno suo, io ogni anno ho fatto sempre qualche cosa con lui. E quando io, lei se ne accorta, che stavamo in macchina e il frate dice, madonna, quando lo troviamo, quando lo troviamo un posto qua, lei mi fa, ti preoccupa che c'è uno Pasolini di dietro, come giriamo, sacca, subito al posto. Insomma, noi ci abbiamo sempre Pasolini di dietro, che quando... adesso io vado con l'auto, ho lasciato la macchina a piedi, sotto un'altra tazza adesso, e purtroppo... Però Pasolini, per me, non è mai morto. Era un po' un vostro angelo custode, in qualche modo? Beh, mio padre era del 22, pure lui era del 22, che poteva essere? Un padre. Certo. Poi mio padre non sapeva leggere né scrivere, cioè se io non andavo a scuola, mio padre non mi ne apportava niente, invece Pasolini se non andava a scuola, erano cose... Erano guai, eh? Sì, beviva un uricchio, quelle cose, ma non solo a me, pure agli altri... Perché eravate un po' dei prescelti da Pasolini voi? Ma lui perché c'era... Cosa avevate di... No, prescelti, lui ci incontrò proprio il giorno che lui iniziava a lavorare, e ci incontrò lì al prato delle tavolette, a tutte e quattro, anzi noi eravamo quattro, eravamo sei, sette, che stavamo a giocare a pallone con un pallone fatto con stracci, spago, era un pallone fabbricato da noi insomma. E lui passava, perché lui veniva da Rebibbia, che abitava Rebibbia, veniva da Rebibbia, prendeva un pulma, poi prendeva un altro pulma che scendeva prima di Torpignattara, perché quel pezzo di strada di Torpignattara non era fatta, non era ancora asfaltata, allora l'auti non ci passavano, lui passava al prato delle tavolette in dove giocavamo noi, poi faceva via Casetina, scendeva al Mandrione, andava via Sisi, via Sisi, andava via Toscolana, via Toscolana, via Appia, e prendeva il tramvetto, il tram, a buro, prendeva, quelli che si diavano a buro una volta, e andava a finire a Ciampina a lavorare. Tutti i giorni facevano la sera e il giorno quando mi tornava. Paolo, un secondo soltanto, allora, l'incontro con Irene, ci presenti Irene? L'incontro con Irene è meglio che voi dice lei perché... Irene, benvenuta, anche tu stai, lavori insieme a Paolo a questo progetto su Pasolini. Sì, grazie, buonasera, e io vi ringrazio, è un onore per noi essere qui a questo bar, perché noi abbiamo fatto anche un racconto bello su Piper. Sì, poi già abbiamo fatto. Bello, qui c'entra anche Pasolini su questo bar, perché i primi voti che hanno fatto, insomma, c'era anche il maestro. Io ho conosciuto Paolo nel 2010, lì a via Fanfulla da Lodi, all'Arci, andavo a cercare un lavoretto, qualche cosa, ha detto lui, ti faccio lavorare, io cosa, ti racconto una storia. Mi ha raccontato una storia che il primo racconto che avevo scritto era Patata, il Sarto del Quigneto, che questo Sarto era molto famoso. E io ho preso come uno scherzo, insomma, abbiamo cominciato a scrivere, siamo divertiti, e poi alla fine io sono albanese, quindi per me in italiano l'ho imparato a leggere, invece scrivere poco. E era scritto in 4-5 dì in questo racconto, e ci siamo piaciuto e risate da morire, perché non si capiva niente. Io lo leggevo perfettamente. E così abbiamo cominciato il primo libro. Tutte le mattine, alle 5 del mattino, perché era estate, ci incontravamo e cominciavamo a scrivere il mattino presto. Poi andavamo sui luoghi, io abitavo vicino a via Piccinini, dove abitavo questo Sarto, e non sapevo, quando l'ho scritto via Nicola Piccinini, io pensavo che dove si trova, invece ce l'aveva all'angolo della casa. E siamo andati in cerca dei luoghi dove Pasolini ha camminato, dove lui è andato in giro per Roma a vedere i posti dove lui andava a scrivere, dove noi siamo andati sulle orme di Pasolini e mi sono innamorata proprio di questa storia, di questa cosa vivente, perché Pasolini la povedece tutta la vita, ma non la conosce, cioè senti le cose che dicono gli altri, i libri, non è niente quello che racconta lui che l'ha vissuto veramente. E quindi quando lui racconta ti sembra che sei di dentro, che Pasolini ce l'hai di dietro, insomma. Sì, sembra, veramente Paolo lo racconta con naturalezza. Irene, voi avete scritto anche un pezzo, lo vogliamo, Martina, vieni su un attimo. Sì, abbiamo scritto nel Piper. Allora, prendiamo il microfono, questo è un pezzo che avete scritto, Irene e Paolo, dedicato al Piper Club, ad un episodio accaduto nel 66, se non sbaglio, che vede, appena aperto, sì, perché vedo che il Piper ha aperto i battenti nel 65, quindi appena forse qualche mese, qualche mese prima, è un racconto che vede coinvolto te e anche Pasolini. Aspetta, sì. Io con tutti i biglietini che eravamo, e poi con i bariolini, insomma, adesso lo leggo un po', però noi, insomma, facciamo noi a botte. Ecco, Martina Berardini che scrive su Il Quotidiano del Lazio e Roma IT, ci legge adesso questo brano da questo scritto di Irene e Paolo Pilati. Questa è una storia del Piper, 1966, te partimo io, Tarzanetto, Bruschetta, Paraponzo, Pachito, Ciriola, Bulbuli, Manca Poccione e Cowboy, che era Giggetto, il nostro accompagnatore. Eravamo una decina, undici per Paolo, cominciamo a ballare e tutti ci guardavano, che eravamo tutti bravi. E Capoccione, che era uno degli meglio, viene mirato sul palco a ballare insieme a sta biondabona. Bandone, Pachito e Leandro, ma guarda quanto è bella, me fanno, come se stiamo a divertire, è una meraviglia. Con pochi soldi, noi ragazzi dei Pasorini, e non solo quel giorno, ci si divertiva sempre. I personaggi che avevamo visto il Piper a Cantà erano Renato Zero, Mia Martini, Little Tony, Bobby Solo, Lorena Bertè e tanti altri ancora. Un grande saluto al proprietario del Piper, che si chiamava Bommiga e che sapeva come comportarsi con la gente. Era veramente un gran maestro. Ha fatto diventare Piper il locale più conosciuto del mondo. In questo momento, che Irene stama scrive, si può dire che il Pigneto è diventato Liparioli e che Liparioleni sono diventati Borgadari. Vedi com'è la vita. E bravo, bravi, grazie Martini. Bella questa, bella questa sul Pigneto. Allora Stefano, dammi i tempi poi, noi siamo in diretta su Radio Radio, do uno sguardo, abbiamo ancora, sì, abbiamo qualche minuto ancora. Irene ci hai raccontato un po' questa storia anche del vostro incontro e di quanto sia stato emozionante ripercorrere un po' i luoghi di Pier Paolo Pasolini. Quali erano, Paolo, i luoghi di Pasolini a Roma? Hai detto il Mandrione, il Pigneto. Io posso parlare di quello che ho vissuto io con Pasolini. Pasolini andava dappertutto, perché noi andavamo in qualsiasi quartiere. però il Mandrione, il Pigneto, Certosa, Certosa nominano poco. Dove è Certosa? Certosa è sempre un quartierino dietro, dietro il Pignattara, la Maranella. Ma si poteva girare tranquillamente in quelle zone, Paolo? Beh, al Pigneto, quando io ero giovane, non credo. No, non troppo, eh? Sì, perché... Come faceva Pasolini a muoversi tranquillamente, senza che gli succedesse nulla? Ma lui era un maestro di arti marziali, cioè vicino a lui chi si avvicinava? Addirittura, veramente? Come era piccolo Pasolini? Lui mi portò a fare il pugilato, che c'era 8 anni, e l'ho fatto fino a quasi 20 anni. E l'ho fatto il pugilato, in quale lui è stato il mio primo maestro. Però io non ho mai... Cioè noi in sei, sanna, tutti i campioni, non riuscivamo mai a prenderlo. Veramente? Lui era un maestro, che scorsese. Non lo sa, cioè poca gente sa che lui era un maestro di arti marziali. Quando dicevano che lui andava nella giungla, andava a cercare i ragazzini e queste cose, no, lui andava a imparare le arti marziali. Poi certo, era pure un omosessuale, come io andava a cercare donne, non so, andava a cercare loro. Sì, 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 però questo non è... Senti, Paolo, quindi credo che tu sia rimasto anche sorpreso e tu abbia qualche dubbio sul modo in cui si dice sia morto Pasolini. Come è morto Pasolini? No, ma chiedo qualche dubbio di Salaventino, dice è un maestro di arti marziali, si fa fregare da un ragazzotto. No, quello lì noi l'abbiamo visto subito perché noi siamo andati lì al commissariato, era... pesava un'altra e mezzo, poteva ammazzare Pasolini. Pelosi, eh? Pelosi, sì. Pino Pelosi. Sì, poi Pelosi, io l'ho fatto un sacco di interviste con lui, mi ha sempre negato che lui è stato ammazzato Pasolini. E infatti lo sta rinnegando, non è negato. Sì, 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 poi si dice che lui avesse fatto la cosa di qualcuno. Un'altra cosa che io stiamo facendo io e Irene adesso, stiamo scrivendo l'ultimo giorno di Pasolini, proprio come noi amici di Pasolini l'abbiamo, cosa? Proprio l'ultimo giorno è per una cosa americana. Per una produzione americana? Per una produzione americana. Senti, secondo voi Pasolini, noi ne parliamo ancora perché questo, al di là della statura intellettuale di Pasolini, ma c'è per fortuna qualcuno che lo ricorda, lo ricordano a Roma e va bene. Sì, sì. Il Palo Expo se ne occupa, ma lo stanno facendo anche in Francia se si va in questo momento. Hanno fatto un mio documentario, quello che è arrivato secondo a Cannes, hanno fatto un documentario che si chiama Petrolio e Petrolio, l'hanno fatto lì in Francia, più un'altra cosa che hanno fatto le riprese con lei lì a Barneggi, poi ci hanno invitato, però noi siamo molto presi per questo racconto che stiamo scrivendo adesso. Irene mi ha detto no, non andiamo perché era un momento proprio dell'ultimo giorno dei Pasolini che stavamo scrivendo. Ebbene, insomma, non ci siamo mossi perché io parlo, lei scrive e quando io ho dentro, lei addirittura a me non mi interrompe mai, perché se mi interrompe poi non mi ricordo un cacchio. Allora, no che non mi ricordo un cacchio, non mi ricordo, però lei è più forte e brava che io ho scritto con parecchie persone. Con parecchie persone hai scritto, ma non hai mai trovato una persona così a tempo. Non sono mai riuscito, sono 600 racconti che io ho. E poi ci aspettiamo un lavoro. Sono 600 racconti che io ho dei Pasolini. Senti, però mi incuriosisce molto Paolo, questo l'ultimo giorno di Pasolini, sì abbiamo qualche minuto poi chiudiamo con la Radio Radio Band, è l'ultimo giorno di Pasolini, c'eravate anche voi? Cioè lo avete visto l'ultimo giorno di Pasolini? No, perché lui era appena ritornato da un viaggio e si è incontrato con delle persone che non posso, sulla Tiburtina, poi è stato portato via. Non sappiamo di più. Non è morto, non è morto quel giorno là. Ah, non è morto? No, è morto. Non è morto il giorno di Senti lui è morto. Cioè l'hanno ammazzato a velenare, vabbè è morto. Ah, ma via, beh, una storia, l'hanno avvelenata. Qua ci racconti delle cose. Sì, sì. Allora, no, perché è molto interessante, no? Sì. Tu stai dando delle storie, noi perdiamo la memoria. È molto interessante. Sono passati tanti anni, quanti anni sono passati? 37, 39, 38. Che era il 75? 75, sì. Era novembre del 75? Sì, il 2 novembre del 75. 38. Quando l'hanno scoperto? Quando l'hanno scoperto? Perché quando io racconto, cioè questo ultimo giorno dei Pasolini, lei gli escono le larme, diceva, ma per davvero è successo così? Allora, infatti è successo così. Allora, Paolo, noi dobbiamo fermarci qui e grazie di essere stati con noi. Reina e Clara Dili. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. È un nostro apprezzionatissimo. Allora, quando la cosa sarà un po' più definita, vi invito entrambi a venire anche a trovare. Parte qui, lo sapete, già lunedì prossimo. Grazie. E possiamo farlo benissimo qui, un altro giorno. Dedichiamo proprio il nostro spazio a questo ultimo giorno di Per Paolo Pazzolini. Magari prego. Perché ci abbiamo pure il racconto, bisogna leggere tutto il racconto. Va bene, non avremo modo di farlo. Dobbiamo... Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.